Grande paura a Verona nel quartiere Veronetta in seguito ad un'esplosione che si è verificata nell'appartamento di un edificio composto da quattro piani e numerose unità. Il palazzo che si trova in via San Giovanni in Valle è stato investito da una deflagrazione partita dal vano al piano terra. L'onda d'urto ha causato danni agli infissi di tutto lo stabile con la rottura di vetri. Due feriti sono stati assistiti dal personale del suo e trasferiti all'ospedale. Altri feriti più lievi sono stati assistiti sul posto dai sanitari. I vigili del fuoco accorsi con due autopompe, un autobotte, un'autoscala, quattro mezzi fuoristrade e 18 operatori hanno evacuato una persona anziana che si trovava a letto con delle fratture. Altri condomini sono stati portati fuori dagli operatori, mentre altro personale aveva iniziato le operazioni di spegnimento nell'appartamento al piano terra dove si è verificata l'esplosione. Tutte le persone evacuate hanno utilizzato le maschere supplementari degli autorespiratori dei vigili del fuoco. Il personale del NIAT, Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale dei Vigili del Fuoco, ha iniziato il sopralluogo per determinare le cause dell'esplosione.